Lo dico nel momento. Quando lo monterò, questo video non avrà nessun senso. Via al video! Piccolo uomo felice. Voglio parlare di un argomento che ho i capelli negli occhi... ...e bevo del tè. Che minchia è un piccolo uomo felice? Correva l'anno passato, mi trovavo nelle campagne sicule a guardare delle gare di natura sportiva su strade sub-regio-comunitarie insieme ad un vetusto anziano signore che chiameremo Dottor Vecchio. Ad un certo punto nel panorama collinare in una vallata vediamo del fumo emergere dal comignolo di una piccola casetta. Dottor Vecchio mi chiama e mi indica la casetta e mi dice Ecco, vedi lì, tu Ramon versione 2006? Guarda lì, lì vive un piccolo uomo felice. Ma che minchia è un piccolo uomo felice? Cioè, c'è l'Uber della situazione. Hello? Ciao, good day. Mangiarlo! Il piccolo uomo felice? Fuori fuoco. Dottor Vecchio è quel classico individuo che ha un lavoro stabile moglie, figli, amante, elevata autostima, si crede migliore degli altri, abbastanza intelligente da riuscire a provare una sorta di controempatia, invidia per lo stupido o per quello che lui ritiene essere meno acuto. Il lato negativo dell'intelligenza spesso consiste nel rendersi conto di alcuni problemi che gli altri non hanno. Questo talvolta induge a desiderare una lobotomia frontale per potersi non rendere conto di alcuni problemi. Quindi Dottor Vecchio guarda dall'alto della collinetta questa piccola casetta in pietra, col fumo fuori uscire dal comignolo, e immagina un idillio supponendo che lì viva un piccolo contadinotto ignorante, che altro non faccia che svegliarsi alle 6 del mattino per zappare le sue melanzane, ed essere felice. Il segreto della felicità per Dottor Vecchio è non preoccuparsi di null'altro, se non delle melanzane. Quando i tuoi problemi si riducono alla melanzana, che qui vediamo immersa in salsa wasabi maionese, la tua vita non può altro che essere estremamente semplice. Se è semplice, dove stanno i problemi? Se qualcuno si sta chiedendo cosa sto mangiando, non lo so. Andiamo ad analizzare, a vivisezionare la piccolo uomo felice. Piccolo è un aggettivo che non si riferisce alla visione prospettica da lontano della casetta minuta, quanto più al concetto che questo individuo, nella sua semplicità, è irrilevante, il che è del tutto opinabile, oltre che errato. La sua percezione del mondo circostante è limitata perché chi lo descrive ha la presunzione di avere una percezione più vasta. Ma nel momento in cui lo invidi, tu desideri essere come lui. Quindi chi ti dice che lui non sia il te dopo aver deciso di spararsi un chiodo nel cervello e diventare quella persona lì? Ma qui subentra un altro problema. C'è veramente bisogno di spararsi un chiodo nel cervello per ridurre la quantità di pensieri che ci rendono grande uomo infelice? Ovviamente no. Ma aiuta. La cosa che sfugge è che piccolo non necessariamente è un concetto negativo. La dimensione di questo uomo felice, oltre semplificandola potremmo paragonare un poco al peso della responsabilità o al peso della conoscenza. Più conoscenza cameriamo, più ne vogliamo, perché più informazioni acquisiamo, meno ne abbiamo. Più informazioni acquisiamo, più ci rendiamo conto che sono tante le cose che non sappiamo. In sostanza, quando acquisiamo conoscenza, ciò che acquisiamo sono domande. Che non ci poniamo quando siamo un piccolo uomo felice. Quindi essere un piccolo uomo felice, alla fine, significa non porsi domande. Meno è la responsabilità, più ci sentiamo piccoli. Ma contemporaneamente, meno responsabilità uguale meno problemi. È proprio un assioma incomputabile. Dunque... Vediamo di concludere questo sproloquio. Piccolo può essere positivo o negativo. Positivo nel momento in cui la tua mente è sgombra da preoccupazioni. Negativo nel momento in cui la tua visione del mondo è limitata. Ma nel momento in cui la limiti da solo, per scelta, diventa una cosa un po' più vigliacca probabilmente. Questo è un altro uomo. Uomo che vuol dire? Uomo non è inteso come essere umano di sesso maschile dal cromosoma XY, ma è più inteso come esponente della gloriosa razza umana. Sub categoria sapiens, 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 sapiens. Generalmente riferito a tutti coloro che possono essere classificati come dei primati un po' più evoluti, ammesso che l'evoluzione... Andando avanti, felice. Il piccolo uomo felice. E questa felicità la raggiunge grazie a questo contrasto tra uomo che è la mancanza di responsabilità e piccolo che è il riconoscere la propria dimensione limitata. Perché la consapevolezza, la conoscenza invece degli animali che brucano l'erba e sono contenti. Quando trova un bilanciamento tra queste due cose, il piccolo uomo diventa felice. Quindi non fare mai nulla più o meno di quello che riesci a bilanciare col tuo cervello. Veramente, veramente, veramente. Come promesso, questo video non ha capito io niente.